E anche il Buri Khalifa è con noi, Zayed Road, Buri Khalifa fermata Dubai Mall, la successiva e quello del nostro hotel e qui ci sono i migliori, i due, i temerati che con 45 gradi al sole, all'ombra, sono sempre in giro, pronti per fare strada. E' contenta signora?